ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video e ho fatto questo refill ad una mia amica che ormai era ora aveva tanta ricrescita e è una copertura su unghie naturali a parte tre dita tre unghie diciamo ecco ricostruite adesso sto applicando questo bellissimo colore di passione unghie red carpet ovviamente due passate come sempre nell'anulare invece andrò a mettere questo gel collo che non è di passione unghie non ricordo ne manco scusatemi la marca qual era perché me l'aveva preso il mio ragazzo tempo fa su ebay e è un bel glitterato e un colore champagne diciamo sommia molto al colore champagne infatti lo chiamerò champagne e ovviamente quello due passate infine darò una terza passata proprio per coprirlo totalmente bene e niente poi fino andrò ad applicare l'ultra gloss di passione unghie come sempre il lucido e l'olio cuticolo ovviamente come sapete ormai tutto passione unghie e niente io spero che il video vi piaccia se sarà così metterete i tuoi pollici su se volete sotto i video mi commentate io niente vi lascio il video vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao